Musica Saremo cenatissima, Ilari manca poco, è tutto pronto e potremo finalmente aprire Ti rendi conto Ilari? Abbiamo aperto un McDonald dentro casa, diventeremo ricche! Sì, tutto pronto, lo dobbiamo soltanto aprire, i clienti saranno stra-contenti allora Funghetti, rimanete a guardare questo video perché sarà il video più epico di sempre Il McDonald di Ilari e Stefano è aperto! Non si chiude Ilari! Ecco! Algo! Ma non è che per caso avete morso il mio palino? Oh, ma che fai? Ti bevi la mia Cola Cola! Ecco sto il P.Vil! Oh, ma quando apre il McDonald? Ho tantissima fame, non vedo l'ora che apre, è tantissimo che stiamo aspettando Io non vedo l'ora di mangiare il mio palino, sto aspettando da mille anni! Funghetti, veniamo a cucinare altri palini, però alcune già le abbiamo create, guardate! Ehi, Ilari, ma sono dei clienti! Ragazzi, buonissimo! Ilari, Nicole, sono tornato! Oddio! Che cos'è qua dentro? Scusate, ma tuo padre non sapeva nulla! Che cos'è qui dentro? Ma voi chi siete poi? Scusate! Ma questa è casa mia! No, no, scusate ragazzi, tutto bene, tutto a posto! Ma questa è la cosa... Vieni un attimo e stai zitto, andiamo! Andiamo! Che cos'è qua dentro? Andiamo, ascoltate! Abbiamo fatto un McDonald! Ma un McDonald è dentro casa! Ma è legale, non si può fare! Si può fare, c'è un problema! Quale? Ci manca il cuoco, quindi vai in cucina e farci altri palini per i clienti, per favore! Sì, papà, ci stanno i clienti, sbrigati, vai in cucina! Vedi, questa è la cucina del McDonald, quindi vai, entra, facci i palini e fai! Ma io non so cucinare, io non so cucinare i palini del McDonald! Zitto! Zitto! Abbiamo un panne, aprite, dai! Allora, quando aprite? Il McDonald di Hilary e Stefano è aperto! Primo cliente! Buongiorno! Sì! Oddio ci sono un sacco di cose buone, non so più cosa scegliere! Allora, vuole iniziare? Vorrei un McChicken e una Coca-Cola! Cinque Coca-Cola! Stefano! Un McChicken e una Coca-Cola! Un McChicken e una Coca-Cola? Ma io non so nemmeno come si fa un McChicken! Ma che cosa c'è detto il McChicken? Ma che ne so io! Sono cinque euro e cinquanta! Grazie! È pronto il McChicken! Senti, Nicò, quello non sa fa niente! Vado a cucinare io il McChicken! Ma quanto ci vuole per questo panino? Quanto manca? Adesso, fai finta che l'hai fatto tu e io esco! Senti, ricensiamo! Vai, tieni questo panino e io esco! Il McChicken è pronto! Allora, vediamo la cannuccia! Apriamo, si fa sempre così nel Mc, no? Fa vedere se non è scaduto, come l'ha fatta Stefano! Oh, ma che fai? Devi bevi la mia Coca-Cola! No, sto sognando solo! Ma basta! È la sua, Hilary! Ah, cosa fa? Ha patato! Ah, prego! Scusate, ma nel menù non ci sono anche le patate! Ho capito! Ho capito, vabbè, ti è regalo questo! Ok, adesso non vedo pronti di mangiare! Signora, la cannuccia! Grazie mille, è sicurissima! Vieni di... È fatta! Buongiorno! Buongiorno, è l'ora! Ma chi è questo col cappuccio? Ah, una rapina! Veloce, sono due ore che aspettavo! Qualcuno sta rubando dentro il nostro McDonald's! Ma che rapina è rapina! Sono un cliente! Ah, pensavamo! Va bene, dimmi, cosa vuoi? Allora, io nel mio panino vorrei... I cesioni, i pomodori... I cesioni, i cesioni, poi non è finita! Perché vorrei della maionese e del ketchup! Ketchup! Maionese! Del formaggio e delle patatine! Schifo! Non sto molto più a segnare! Non sto capendo a più nulla! Senti, facciamola breve! Dei polletti e un panino senza salsa e una Coca-Cola! Ma allora dillo prima, no? Stefano, Coca-Cola! Panino senza salsa e polletti! Tiè! Allora... Coca-Cola a parte qua! Patatine! Polletti! E il gioco? È un gioco! Il gioco! Il gioco! Il gioco lo prendo da qua! E io sempre lo... Non lo basta! Non lo scacchino da qua! Non ti do la mano! Aspetta, forse devi mettere il triangolo dentro! Non lo so! Tanto! No! Ma quanto ci vuole a chiudere una scatola di un Happy Meal? Ah, ho capito! Si deve mettere il contrario! Sono un genio! Hai ragione! Vai! Il contrario! Ah! Ah, c'è un panino di promozione! Dai, sto guardando! Stai guardando! Stai guardando! Aspetta! Facciamo vedere la cosa che facevo prima, no? No! No! Non si chiude, Hillary! Ehi, che cosa sta succedendo? Hai rotto tutta la scatola! Ah, ecco! No! Guarda! Perfetto! Ok! Mirari! Ok! 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 Sarà pronto! Tutto bene? Tutto bene? Ecco il tuo Happy Meal! Va bene! Però magari la mano non l'avevo chiesta nel Happy Meal, guarda! Mi fa un po' schifo la mano a rosso! Potremmo mettere la mano a togliere! Ai 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 ai! Vai, tirati! Ecco! Prossimo ingrediente! Ossia, mettermi mangiare poco a te? Ah, mi sa che non c'è spazio! Ma sì, che c'è spazio! Eh, ma mi mettete un po' più stretto, così? Questo! Sì, qua! Sì, ma... Cos'è? Ma cosa ti ha notato? Non lo so neanche io! Non abbiamo l'assicurazione, eh! Signore! Signore! No, ma via! Sì, va, 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 va! Ma non ci abbiamo più clienti! Quanto abbiamo incassato? Allora... 10? 15! 15 euro? Solo 15 euro? Vabbè! Cioè, mi ho fatto la paghetta! Mmm! Ci ho una bella idea! Anche io! Dai, vila! C'è che mangiamo noi! Giusto, dai! Buon appetito! Ovviamente, ragazzi, i panini che vedete in questo video non li abbiamo spiegati, anzi, ce li mangiamo a fine video. Se Ine, lì ci lascia qualcosa, ovviamente. Salve! E questo è il nuovo McDonald? E tanto cliente! Chiudi, 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 chiudi! Nicole, Nicole! Questo è il nuovo signore! Voglio essere eleganti! Come eleganti? Buongiorno! Buongiorno! Ilari! Eh! Buongiorno! Ok! Buongiorno! Eh, vabbè, vabbè, venga, venga! Salve! Buon pomeriggio! Io sono molto ricca! Questi sono 1000 euro! Potete cucinare? 1000 euro! Sì, per favore, ci dà, per favore! Scusate! Vabbè, che sono ricca! Ma prima di darvi i soldi, mi volete spiegare cosa mi state dando esattamente? Senti, diamo di tutto quello che abbiamo! Manca i nostri panini muzzicati! No, se veniamo muzzicati, no! Allora, un bel crispy mac bacon! Normale! Quello è quello muzzicato! Posso vederlo? Sì, eccolo! Ehm, bel panino, molto buono, salato, a posto! Dayback chicken! Vuole vedere anche questo? No, 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 ma anche quello! Ma certo che lo voglio vedere! Certo, devo vedere anche questo! Eh, ecco, guardi! Guardi! Ecco, non è che per caso avete morso il mio panino? Questa è una pusta! Devo dare... No, prima me li deve dare tutti i panini! Sì! Ma è una bella furba! No! Scusate, per mille euro? Solo questo? Un secondo! Qui ho altre pivite! Uno già chiuso! L'altro! L'altro! L'altro, eccolo! L'altro! L'altro gli diamo! Signora, vuole delle mele? Delle mele! Ma signora, fanno bene le mele! Così! Allora, c'è il panino speciale! Venti a finirlo! Questo! E' di mele, matto panini, matto panare, e mi! E' di due pelle! Sì! Grazie, ho aspettato anche troppo! Arrivederci! Viene! Prossimo cliente! Sì! Sì! Senti, facciamo io uno scherzo! A me non mi hanno trattato benissimo a te! Guarda, mi sa che lo capisci anche da sola! Ehm... Ci vogliamo vendicare? E come? Allora, là c'è una divisa del McDonald's! Io adesso sarò la divisa del McDonald's e ti offrò tutti i panini gratis! Allora, vediamo quanto ti ho incassato! Allora! Ok, adesso con questa divisa del McDonald's potrò sembrare una commessa del McDonald's! Mettiamocelo! Sì, sembri proprio una commessa del McDonald's! Sono pronta all'azione! Ah, un cliente! Salve! Non sono proprio un cliente! Sono la nuova commessa del McDonald's! Quindi da questo momento sono io la tua collega! Mh... Sei sicura? Sì! Buongiorno! Eh... Faccio io, lo servo io! No, no, lo servo io! Lo servo io? No, lo servo io! Lo servo io! No, lo servo io! Eh, vabbè, meglio se lo servo io! Allora, decidi l'inquediente! Ok! Lei! Antipatico mia! Benissimo, il nostro piano sta riuscendo! Ehm, cosa vuoi? Tutto qua, ho visto che è quasi notte! Benissimo, ti ho fatto una bella lavora e un Crispy McBabon enorme! E in tutto sono... 5 euro! Grazie! Ok, grazie! Adesso gli do il panino e gli do anche i soldi indietro, così almeno il nostro piano è riuscito! Ecco lei! Grazie! Ah, io ho staccato! Me ne vado! Arrivederci! Dove vai? Ragazzi, non c'è più niente, non mi è rimasto più niente, intanto il ketchup ho finito tutto, anzi, abbiamo finito tutto, quindi possiamo anche chiudere! Ehm, no! Ci manca l'ultimo cliente! Ilari! Eh, sì, certo! Io ho fatto, non ho mangiato, quindi... Ilari, in realtà non c'è più niente, non è più rimasto nulla, non ti posso dare più niente! Non è possibile! Ilari! Ilari, non rari! Ma io adesso che mi mangio! Ti sei potere pure fatta fregare da loro! Ti hanno fatto fregare da loro? Ma da chi? Io ho visto tutto quanto! Tutto quanto cosa? Beh, di niente, ho fatto finta che era tua collega! L'hanno fatto per non pagare! Voi mi avete fregato a me, mi avete fregato! E' quella mi dice! Ah ragazzi, ci vediamo domani con l'altro video! E iscrivetevi al canale! Grazie a tutti!